Se ne sono accorti, se ne sono accorti Cazzo Oh Dio, non lasciarli arrivare a me Hai alcuni bambini? Ho solo un bambino in me Sono venuta Sì Sì Sci qui Sci qui Sci qui Non è una discussione Ok, ando Bene Sci qui Ora Che cosa fare? Ma... che sta facendo? Ma... che sta facendo? Non ce la faranno. Ma... Ma... che sta facendo? Ma... che sta facendo? Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Ma porca troia. Adesso, come... Minchia facciamo? Non c'è nulla. 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 Sacrificato così Clementine, I know Kenny was your guy. Yeah, well You guys would be great for We do our best Good Thanks, whatever your best is, I'll trust you. That's all you can do Me rimane ormai sono rimasti loro due Be careful across here Questi ponticelli e scale Cose da saltare io li odio cavolo li odio Ponticello madonna mia E questi ponticelli così Provisa e costruiti così non mi fido Sono le cose che più odio in questo gioco A quanto pare abbiamo perso Kenny E Ben Kenny ha cercato di dare una mano a Ben Si è sacrificato Si è sacrificato E non so E non so dove è la prossima E non so dove è la prossima Poi Poi Tutto infestato E pieno di zombi ovunque Pure i palazzi Wow 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 Marshal's hotel Is around the corner of the block I could Hotel Marshall We have to cross here Well At least it doesn't look like a death trap Il sole 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 È eato Eato In Arcane Eato How muchDo? Non lo vedo bene. Beh, mi ce l'ha fatta a quanto pare. Vai, Krista. Cazzo. Che merda. Un altro guaio. Che palle. Fai un c***o, io ci provo. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the f***?! Find me when you get down. What the f*** does that mean? It means what it sounds like. Hotels around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy! There's no other way. Ma che sta facendo? Ma dai, deve scendere proprio dove? Sono gli zombie. E adesso? Mi avrò cammino fra i zombie? Mi faccio a strada? Mamma mia, un macello! Che c***o! Capoddana! Uff! Dai, dai, che ce la fai? Dai, dai, che ce la fai? Dai, che ce la fai? Dai, dai! Sì, così, continua! Non ti fermare! Ha tagliato la testa. C'è una macchina! Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! E non siamo stati morse! Di nuovo! Meno male! Siamo arrivati a questo FOTUTTO MARSH HOTEL! Siamo abbastanza sporchi! C***o! Trattati di sangue! E noi andiamo avanti! Troveremo qui Clementine! Quel rumore? Sentiamo C'è qualcuno? Sembra che qualcuno abbia lasciato una porta legata all'altra, però mi sembra come se fosse una trapola Cazzo! Ma che sei tu? Che sei? Sì! 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 Gran pezzo di Marta! Chi cazzo sei? Do you know who I am?